Ma c'è pure, i capelli pure ci sono, c'è l'altra canzone dopo i capelli c'è pure, sono tutti messi nel rullo sono, poi li ho ascoltate, ah ecco è importante che non facevi altro, ci sta che canti dal bagno. E la metto quando siete nel pc, che qui non posso farla ascoltare, quando siete nel pc io ho il mix chiuso ed entra lo stesso l'audio nel pc, e adesso fra poco chiudo qua, giusto che Carlito scrive il messaggio, Carlito scrive il messaggio così passate tutti nel computer. E lì vi faccio ascoltare le canzoni. Non siete nel pc, siete ancora nel telefono siete, nel pc ci dovete andare, però prima devo riavviare il pc, aspetta che riavvii il pc prima. Gloria a te Carlito. Fratello Carlito scrive, fratello amore di una lunga giovinezza, io tuo fratello maggiore ti ama, spera per te e un grande, bravo, miglioramento per questa realtà e gioventù, davanti a te di tante cose, felice e giovane. Bravo Carlito, hai visto che stai diventando un poeta, continui così che ce la fai. Carlito, cambiamento senza soffimento, hai dimenticato. Così, bravo, brava. Nel frattempo che scrive io cambio la live nel pc così entrate là. Così, bravo, bravo. Così, bravo, bravo. Il link del PC è semplice, Angelo Piccone 34, capito, vai nel tuo profilo Carlito e scrivi Angelo Piccone 34, Angelo Piccone 34 e sede dentro il PC. Angelo Piccone 34 e sede dentro il PC. L'ho attaccato il PC, potete entrare, Angelo Piccone 34, andate nel vostro profilo, sotto la vostra foto e fate cerca Angelo Piccone 34 e sede dentro. Laura, lì non sei nel computer, nel PC. Lì sei, Angelo Piccone, dove c'è il segno con le mani. Potete entrare così, chiudo i telefoni. Ecco, bravo Carlito sei là, sei dentro già, bravo Carlito. Grazie. 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 Grazie.